Ciao, come ti chiami? Ciao, sono Michele Altanzi. Cosa studi? Sono il terzo anno di Economia e Dizzo Amministrazione e Finanza. Oggi siamo qui per la giornata del donatore. Cosa significa per te essere assegnataria di una borsa di studio? Essere assegnataria di una borsa di studio vuol dire prima di tutto che sono stati riconosciuti tutti i miei sforzi. In questi tre anni ho sempre mantenuto la media alta e per due anni consecutivi, cioè tutte le volte che ho potuto partecipare al bando, sono stata assegnataria di una borsa di studio. Questo è sicuramente un motivo di orgoglio per me. Cosa ti ha permesso di fare la tua università attraverso il sostegno dei donatori? Grazie anche al sostegno dei donatori ho potuto partecipare alla Summer School in Cina, quindi sono andata a studiare tre settimane in Cina, a Shanghai, e questo penso sia un plus per il mio curriculum. Non penso che tante persone a 21 anni abbiano avuto la possibilità di andare a studiare in Cina, quindi in un paese che ha una cultura totalmente diversa dalla nostra. Cosa ti aspetti per il tuo futuro? Spero di lavorarmi a breve, sicuramente mi iscriverò di nuovo in look. Spero di continuare a prendere le borse di studio, di tutta la segnatale delle borse di studio, e una volta finita la laurea magistrale entrare nel mondo dell'attore. Ti ringraziamo, in bocca al lupo per il tuo futuro. Grazie.